Grande Fratello Vip 2018 Grande Fratello Vip 2018, tra i possibili concorrenti anche Carina Cascella e Claudio Sona Cresce lattesa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 2018, arrivano le prime indiscrezioni sul cast. Chiuso un reality in casa Mediaset se ne pensa già ad un altro e il prossimo sarà il Grande Fratello Vip, giunto alla terza edizione di Messa in Onda su Canale 5. . Le anticipazioni ufficiali rivelano che al timone di questa nuova edizione del reality show ritroveremo ancora la bellissima Ilari Blasi, che tra l'altro sarà anche la regina dell'estate Mediaset con ben due programmi, il Summer Festival e la trasmissione dedicata ai Mondiali 2018 in Onda in seconda serata. Francesco Monte tra i possibili protagonisti del Grande Fratello Vip 2018. . Gli autori e tutta la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 2018 in queste ore sono già al lavoro per ricercare i nuovi concorrenti che vedremo entrare nella casa più spiata d'Italia dal prossimo mese di ottobre. . Il settimanale Nuovo TV in questi giorni ha fornito un bel po' di indiscrezioni sui papabili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5. . Secondo il periodico diretto da Riccardo Signoretti in pole position per la partecipazione al GF Vip 2018 ci sarebbe Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne e, soprattutto, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. . . In un certo qual modo Monte è stato protagonista anche della scorsa edizione del reality show dopo che Cecilia scelse di lasciarlo in diretta davanti ad una platea di oltre 5 milioni di spettatori. . . E così, dopo lo scandalo droga all'isola dei famosi, per Monte arriverebbe questa nuova opportunità che in un certo modo gli garantirebbe un vero e proprio riscatto dal punto di vista televisivo. Aida Nizar dice no al GF Vip 2018. . . Oltre a Francesco Monte, sempre secondo le indiscrezioni di Nuovo TV sarebbe in pole position anche Carina Cascella, l'opinionista versana protagonista da svariati anni dei talk show pomeridiani di Barbara D'Urso. . La bella Carina ha alle spalle la partecipazione al reality show La Talpa nel 2008. Un'esperienza che si concluse con il trionfo della 38enne casertana. . Tra i possibili partecipanti all'edizione 2018 del GF Vip ci sarebbe anche Claudio Sona, il tronista che ha inaugurato la versione di Uomini e Donne dedicata al mondo omosessuale. . Inoltre ci sarebbero delle trattative in corso anche con Gustavo Rodriguez, papà di Belen e Cecilia. Tra le papabili concorrenti del GF Vip ci sarebbero anche Nina Moriche e Silvia Provedi. . Di sicuro, invece, non ci sarà Ida Nizar, la quale proprio in queste ore ha smentito sul suo profilo Instagram la notizia della partecipazione al reality di Canale 5 rivelando che ha altri progetti che bollono in pentola. . 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 Grazie a tutti